L'Appennino-Tosco-Emiliano, il principale naturale confine delle due regioni dell'Italia centrale, si trova al centro dell'accordo di intesa delle città metropolitane di Firenze e Bologna. I rispettivi sindaci metropolitani hanno firmato in Palazzo Medici Riccardi un patto che prevede di individuare nel triennio 2017-2019 gli ambiti di interesse comune su cui sviluppare una piattaforma di progetti condivisi nel quadro delle politiche regionali e di area vasta. Chiediamo semplicemente di poter lavorare insieme e queste due città metropolitane sono confinanti. Questi confini sono superati dalla modernità, dall'alta velocità, dalla variante di Valico, dallo sviluppo dei nostri aeroporti, dall'integrazione di fatto che c'è. Siamo due aree metropolitane molto orientate all'export, abbiamo molto manifatturiero, innovazione tecnologica, turismo. Si tratta di mettere insieme quest'area metropolitana di 2 milioni di abitanti, farne una piattaforma di integrazione in Europa e quindi questo protocollo è molto importante in questo senso. A differenza di rivendicazioni o di lamenti, noi diciamo che le due città metropolitane insieme saranno la seconda gamba dello sviluppo economico e sociale di questo Paese. Nello specifico, oltre allo sviluppo della zona peninica, il protocollo prevede la collaborazione degli enti in merito a bandi europei, cultura e turismo, pianificazione strategica, sostenibilità, sviluppo economico e innovazione urbana. Ci siamo detti, facciamo qualcosa di utile per i nostri cittadini, 2 milioni di abitanti, a partire da una collaborazione concreta sulla promozione economica, sulla condivisione di politiche riguardanti l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la mobilità, sull'aumento di servizi ai nostri cittadini, anche nei trasporti, per esempio la richiesta di un treno di alta velocità a Firenze-Bologna e viceversa anche la sera dopo le 9 e mezzo, o anche una potenziale collaborazione dei siti aeroportuali, e infine sulla capacità di essere un po' il treno del sistema Italia.